Oggi è il momento di riflettere, di fare una riflessione. E voi mi direte, Nunzio, ma dei lunedì mattina dobbiamo riflettere? Scelto! C'è sempre tempo per riflettere, anche dei lunedì mattina. Riflettevo sul fatto che ultimamente i per te di TikTok, ma dal resto come tutti gli altri social, sono invasi da signorine che mettono in mostra le loro mercanzie. Gli sosti mercanzie, bello seno, sedere, scelto! Le forme femminili, pelle, scelto! E i maschietti sbattono al vento il loro membro, scelto! Volevo farvi riflettere su tre punti fondamentali. Tre! Poi magari mi dite se siete d'accordo con me o no, scelto! Uno, non ce l'avete solo voi, scelto! Perché tette, culo e membro maschile, io ne sono qua un esempio, l'avete magari io, ma non lo metto in mostra, e soprattutto non lo svendolo qua nei social, scelto! Due! Non parlano, non dicono niente, quindi lo mostrate, lo guardano e tutto finisce lì, perché non dicono nulla. Terzo punto, quello più fondamentale, che prima o poi la natura farà il suo corso, quindi qualcosa decadrà, decadrà, qualcosa rammollirà, e qualcosa smoscerà, scelto! E quando questo accadrà, o si ricorderanno i vecchi tempi, quando era tutto bello, o nessuno si ricorderà di voi, scelto! Ma aggiungo un quarto punto, vaga, è importante magari, lo aggiungo, scelto! dietro questi schermi in cui vi mostrate, ricordatevi che ci sono anche dei bambini, ad esempio potrebbero essere i vostri figli, vostri nipoti, e non mi sembra il caso che imparano certe movenze da voi. A dopo! Bah! Grazie!